Eccoci qua, siamo qui con Federico e Marina. Dov'è per voi la vita al massimo? Eh, la vita al massimo è... Secondo me l'amicizia, l'amore, diventarsi con gli amici, stare bene. E andare a plastica. E andare a pubblicità occulta. Pubblicità occulta. Però stare bene comunque, dare sempre il massimo nei rapporti più importanti. Quindi l'amicizia, l'amore... Chi vale la pena, la famiglia. Grazie a tutti. Ok, grazie. Grazie, ciao. Au. Grazie.